Il 17 settembre del 1990 muore all'età di 85 anni Angelo Schiavio, campione del mondo nel 1934 è simbolo del calcio bolognese. Oltre alla maglia rosso-blu infatti quella azzurra della nazionale è l'unica altra maglia indossata in carriera da Schiavio, la prima volta nel 1925 segnando una doppietta all'esordio contro la Jugoslavia a Padova. Nel 1934 è proprio lui a decidere la finale dei mondiali contro la Cieco-Slovacchia. Nonostante un infortunio, Schiavio firma la rete ai tempi supplementari che regala agli azzurri di Pozzo la prima stella. Con il quindicesimo gol in 21 partite si chiude la sua carriera azzurra nel corso della quale oltre al mondiale conquista anche due edizioni della Coppa Internazionale ed un bronzo olimpico. Dal 2012 fa parte della Hall of Fame, riconoscimento istituito dalla FIGC e della Fondazione Museo del Calcio per celebrare le figure memorabili del calcio italiano. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti